Schiamazzi notturni, scherzi di cattivo gusto, ingiuria e botti sparati senza rispetto per persone anziane e cittadini. In via Duca a San Felice ad Agropoli regna il caos più totale perché la strada in questione con gli scalini che danno su via Carmine Rossi è l'arena di ragazzini scalmanati e vandali che ogni sera creano scompiglio e disagi per i residenti. Ragazzini tra i 13 e i 14 anni spregiudicati e senza educazione sparano a tutte le ore botti di grossa portata spaventando gli abitanti del luogo. È la denuncia di un residente agropolese che è stremato a più volte, segnalato i disagi anche ai carabinieri della stazione di Agropoli e alla polizia municipale, ma purtroppo, dice il cittadino, i ragazzini continuano imperterriti a infastidire sparando botti, citofonando sui portoni e scappando via. Soprattutto quando richiamati da qualcuno rispondono con uso improprio di parole e offese, non ne posso più, continua, sarò costretto a trasferirmi altrove perché con mia madre malata di cuore devo evitare che per colpa di ragazzini diseducati possa accadere qualcosa di spiacevole. Il problema della sicurezza ad Agropoli è molto sentito dai cittadini e purtroppo in questi ultimi anni la delinquenza è aumentata. In questi giorni una cittadina agropolese è rimasta vittima di uno scippo nei pressi del lungomare San Marco. I gnoti a bordo di un motociclo le hanno afferrato la borsa e la malcapitata è stata scaraventata a terra. Bisognerebbe implementare il sistema di videosorveglianza che spesso viene sottovalutato dalla politica, invece è un deterrente fondamentale per la sicurezza.